Se c'è un'esperta di matrimonio è lei, la cattolicissima e spassosissima Costanza Miriano, giornalista, moglie e mamma, prestata alla scrittura brillante per rivendicare la linea di confine tra post-femminismo e buonsenso, appartenenza ecclesiale e catto glamour. Ogni sua fatica letteraria diventa un best-seller, sia che si eserciti sul terreno che conosce meglio vita familiare ed intorni, sia che esplori lande più scivolose come la dottrina cristiana ai tempi del pensiero fluido. Per l'ultima uscita editoriale ha scelto di andare sul sicuro. Ancora una volta propone pensieri sparsi per approntare un manuale di manutenzione del matrimonio, come recita il sottotitolo di Benedetto il giorno che abbiamo sbagliato, ultimo volume per i tipi della Sonzogno. È quasi certo che si sbagli perché si cambia, ci si sposa quando si è in una fase della vita e poi si cambia e poi certo ci si conosce meglio. In realtà siamo tutti animali, diciamo creature bisognose di guarigione, di salvezza e la salvezza che viene da Dio, lo sappiamo, però passa per la nostra vita nella quale facciamo fatica, facciamo errori, ci facciamo del male a volte involontariamente, pecchiamo, sbagliamo, cadiamo, quindi il matrimonio perfetto come lo raccontano a volte certi film o insomma la comunicazione, lo sappiamo, non esiste. La favolosa e salvifica scoperta che si può sbagliare anche nel matrimonio. San Giovanni Paolo II diceva che per tante persone il matrimonio è l'unico luogo in cui si può provare a sperimentare, a vivere il Vangelo, porgi l'altra guancia, a chi ti prende il mantello dai anche la tunica, quindi a chi non mette a posto le scarpe, i calzini, fallo tu senza brontolare. Roma ha ricevuto il 16 luglio del 2018 dal Presidente della Repubblica Mattarella la medaglia d'oro al valore militare per la resistenza e proprio quest'anno ricorre l'ottantesimo anniversario della liberazione della capitale. Per l'occasione è uscito Roma in armi dello storico Davide Conti, edito da Carocci, che ricostruisce le azioni dei resistenti zona per zona della città con le indomite periferie ribelli espulse da Mussolini che diventano in quei giorni protagoniste. I nove mesi di occupazione costarono le stragi di Pietralata, le fosse ardiatine, alla storta, con i rastrellamenti antiebraici, una guerriglia che coinvolse i civili. Non esiste guerriglia senza un sostegno della popolazione civile, dall'altra perché per la prima volta non solo i civili ma soprattutto a Roma le donne assumono un ruolo fondamentale nella protezione, nel sostegno, nella partecipazione attiva alle azioni partigiane. Quale fu il ruolo delle borgate romane? È sicuramente quello il terreno in cui si incontrano da un lato l'istanza popolare della città ribelle di Roma e dall'altro le avanguardie combattenti dei gruppi di azioni patriottica. Che significato dare all'uso della violenza dei partigiani? È naturalmente un caso ed uno stato di necessità che si colloca precisamente in quello specifico momento storico. Le donne e gli uomini della Resistenza nel corso degli anni successivi, la fine del conflitto, hanno sempre rivendicato l'unicità di quell'esperienza, ovvero in ragione di quella particolarissima scelta, rivendicare l'esercizio democratico della non violenza dentro lo spazio nuovo che la Repubblica aveva costruito.